Non c'è pace per il bar a onda di Sessano del Molise, storica attività posta sulla statale Trignina, alle porte di Isernia, ancora una volta diventata bersaglio di ignoti ladri. I titolari, nelle scorse ore, hanno allertato i carabinieri della stazione di Carpinone dopo l'amara sorpresa. Al momento del loro arrivo per la riapertura mattutina, il bar era completamente vuoto e i locali a soccuadro. Questa ennesima incursione dei ladri è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì. Sulla base della prima ricostruzione alcuni componenti sono entrati da una finestra dopo averla forzata. Almeno un altro era fuori a fungere da palo. Una volta dentro, i ladri si sono impossessati di tutti i gratta e vinci presenti e dei tabacchi. La stima del bottino si aggira intorno ai 20.000 euro. Dopo aver fatto razzia di tutto, sono fuggiti cercando di non lasciare tracce. Ma sono proprio indizi, impronte, quelle che stanno cercando i militari dell'arma. Per identificare gli autori del furto, si lavora sulle immagini del sistema di videosorveglianza. I carabinieri di Carpinone, con l'ausilio dei colleghi del comando provinciale di Isernia, stanno indagando alla cremente, mentre i proprietari tentano di non farsi scoraggiare. Una coppia di giovani fratelli di Sessano, che con questo ennesimo episodio, ha contato il quindicesimo furto in 11 anni di lavoro, e che sta ricevendo messaggi di solidarietà da tutta la comunità di Sessano e dei centri limitrofi.